Buongiorno, lei di che azienda è? Io sono il titolare dell'azienda agricolo Petrignano, produco olio extraverso di olivo biologico. Abbiamo 5.000 piante di olivo, tutto in certificato biologico, perché la comoda robina non permette che un'azienda sia mista o tutto o niente. E produciamo olio biologico. La oliva è coratina, che risulta essere una delle migliori varietà d'Italia per la ricchezza dei polifenoli. Poi raggiungiamo circa 500 polifenoli e per essere un extravergine basterebbe soltanto 100. Abbiamo 5 volte in più da quello che diciamo. È la prima volta che viene qui? Sì, è la prima volta. Siamo stati invitati e abbiamo accettato di venire qui a fare questa manifestazione molto bella. Grazie.